Il nostro discorso col mister è iniziare il programma per cercare di aiutare giustamente anche il mister perché non è che può allenare tre giocatori alla volta, quindi i ragazzi sicuramente vengono più o meno dalle stesse parti quindi organizzeranno una loro macchina per venire in qua il mercoledì e se non sbaglio giusto venerdì e sabato. Allora, ripeto, noi siamo stati molto chiari anche dentro lo spogliatoio, questo non è un discorso di abbandonare è un discorso per cercare di portare avanti il più possibile un obiettivo che in questo momento sappiamo che è cercare di rientrare nei play-off senza farci male noi anche, fino adesso ci siamo fatti male praticamente solo noi, dal lato emotivo, dal lato economico tutto, tutto, io credo che abbiamo messo praticamente tutto noi in questo momento e ci siamo stufati di essere presi in giro, noi continuiamo a dare il nostro, abbiamo prefissato un programma col mister i ragazzi che vanno a casa avranno un programma, lo faranno perché mai conosco il gruppo quindi per non andare a fare delle figure di merda la domenica, perché noi la domenica andiamo in campo per portare avanti al meglio possibile l'obiettivo ci sono anche gli altri, purtroppo andava a finire in un'altra maniera e ne sono convinto se non c'erano, però ormai se, ma noi non ci deve interessare noi dobbiamo guardare al presente, mancano quattro partite, fare più punti possibile e poi vediamo alla fine cosa succede grazie